Art Biker Run, noi siamo arrivati al Supporter Beach, abbiamo terminato la nostra passeggiata bella, bellissima, sulla pista ciclabile, siamo in compagnia del presidente della Camera di Commercio, dottor Strevel, per parlare di questa iniziativa. Davvero molto interessante, io direi per tutto l'Abruzzo. Ma direi di sì, noi come Camera di Commercio abbiamo sposato questa causa insieme alle Gambiende per promuovere in Italia e nel mondo questa pista ciclabile che credo che sia una chicca tra le più belle cose che possiamo vedere nel nostro territorio e organizzando questa manifestazione intendiamo oltre a farlo conoscere la pista ma anche le strade ciclabili, che vanno verso l'entroterra che ci consentono di vedere anche delle bellissime colline dove si trovano frantoi, si produce olio di qualità, cantine dove produciamo credo oggi senza percari di presunzione tra i migliori vini italiani. Per cui lo spiro della Camera di Commercio è promuovere il territorio affinché ci sia un ulteriore e maggiore sviluppo turistico di quanto c'è adesso.